Un nuovo sversamento diretto di liquami non passati attraverso il depuratore nel fiume Pescara e nel mare non comunicato alla popolazione. La segnalazione giunge dall'associazione Pescara Mi Piace, in particolare dai suoi promotori Berardino Fiorilli e Armando Foschi. In una conferenza stampa sul posto a Pescara l'associazione ha reso noto che l'episodio risale al 25 maggio scorso, aggiungendo che i campionamenti, secondo i dati, il suo possesso, sono stati fatti dall'ACA e non dall'ARTA, che le analisi hanno certificato la presenza di valori di escheri chiacoli superiori ai 100.000 microgrammi per metro cubo, un valore 20 volte superiore al limite di legge e poi che nessuno ha ritenuto importante o doveroso comunicare tutto ciò alla popolazione. Anzi, sottolineano Fiorilli e Foschi, tutto questo accadeva nelle stesse ore in cui il sindaco Alessandrini toglieva il divieto di bagnazione sulla costa a pochi metri da quello stesso sfioro. Sulla vicenda l'associazione ha annunciato una campagna di informazione interpellando e chiedendo un incontro direttamente al prefetto Provolo e al manager dell'Asla Mancini e poi interessando della situazione altri organismi istituzionali. La situazione è come sempre torbida e non soltanto rispetto all'acqua ma rispetto ai dati, alla pubblicità che le amministrazioni danno dei dati reali o meno e al fatto che non ci sia affatto chiarezza in merito alla salute del nostro mare, cosa che ci interessa più di ogni altra cosa. La verità è fondamentale perché la verità stabilisce un rapporto di fiducia tra cittadini, quindi utenti del mare ma anche operatori commerciali. Noi sappiamo che il 25 maggio ci sono stati diversamente importanti per apertura delle famose pompe di sollevamento, l'ACA questa volta e non l'ARTA, non sappiamo perché, ha effettuato delle analisi. Queste analisi sono rimaste secretate o quantomeno non pubblicate. Da queste analisi sembrerebbero emergere risultati molto preoccupanti, il sindaco pochi giorni dopo annuncia un mare pulito e splendido. Noi ci auguriamo che sia così come dice il sindaco ma non riusciamo a comparare i risultati che abbiamo pubblicati, anzi non pubblicati, dall'ACA con le dichiarazioni del sindaco che non sono supportate da alcun documento. Per questo chiediamo all'amministrazione, all'ACA, all'ARTA, al sindaco qual è lo stato reale di salute del nostro mare. I dati sono allarmanti perché i risultati del 25 maggio, prelievi fatti proprio in questo posto davanti alla pompa B0 alle 7.30 del mattino parlano in una piccola provetta di 100.000 escherichia coli in microgrammi per metro cubo, quindi è un dato allarmante 20 volte oltre il limite previsto dalla legge. Grazie a tutti.